Ripartiamo con grande entusiasmo in questo 2018 con delle novità sotto l'aspetto tecnico con due nuovi tecnici che sono Gervasio Iurisci e Luciano Iurisci, la conferma di De Collibus e chiaramente anche la conferma di James Martins con cui l'anno scorso abbiamo vinto questo scudetto. Più che vinto questo scudetto penso che l'anno scorso sia successo qualcosa di storico, nel senso mai nessuna scuola ha portato due coppie e ha fatto una finale scudetto arrivando prima e seconda. Noi facciamo una grande ricerca d'inverno di ragazzi talentuosi, di ragazzi che possono lavorare bene anche sulla sabbia, poi li portiamo sulla sabbia e iniziamo a lavorare, per cui questo è quello che è successo con questi quattro ragazzi che sono ai vertici nazionali. Manuel Alfieri, figlio d'arte, fresco di promozione con il Lamezia Terme, parliamo in questo caso però di Beach Volley, una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Sì, sono venuto da una stagione molto positiva a Lamezia, comunque indoor, appunto sono arrivato una settimana fa qui a Pescara e dopo due o tre giorni di riposo abbiamo subito rincominciato a fare preparazione per il beach. E appunto adesso ci stiamo avvicinando alle prime tappe del campionato italiano e infatti già stiamo pensando subito a queste e ci stiamo concentrando su queste. Per te il sogno resta quello un domani di arrivare in Serie A? Certo, certo, io adesso sto vedendo se rimanere Lamezia in A2 e vedremo adesso in questi giorni se mi riconfermeranno.